e niente alla fine l'ho installato finalmente come vedete ho installato windows 11 in anteprima la versione beta che trovate sul sito nel link e sto già iniziando a installare un po di roba giusto per farvi vedere com'è ovviamente anche questo video live senza tagliare senza tagliare spezzoni o niente giusto per farvi vedere anche la velocità operativa ci sono strafalcioni e l'altro però come vedete vi faccio vedere proprio la velocità se ci sono bug crash veramente non andremo a tagliare nulla primo passo sono andato a installare il language pack italiano perché la versione che scarichiamo è totalmente in inglese però si può aggiungere il language pack senza problemi come vedete si può aggiungere senza problemi intanto vedete sto installando chrome sto facendo diverse cose insieme giusto anche per farvi vedere se ci sono blocchi o crash sporadici accetto al sito qui si è spento totalmente il computer come vedete proprio si è spento e si sta riavviando sembra una modalità quasi bernazione non lo so sicuramente un bug un crash del sistema con dei problemi che sicuramente microsoft risolverà vedete sono di nuovo alla schermata di disblocco e vado ad inserire il pini quindi si è ripreso nuovamente da zero vedete ha chiuso tutte le applicazioni ciò che stavo facendo prima tra l'altro vedi c'è anche un bug sulla visualizzazione dell'icona di chrome questo è il classico menu di classico menu start che viene completamente rivisitato qui c'è la possibilità di aggiungere i vari desktop 1 2 classico come era da windows 10 anche windows 8 permetteva di aggiungere diversi desktop in modo da avere diversi ambienti mi piace tantissimo il widget questo è nuovo mi piace tantissimo perché clicchi e tu puoi personalizzare un pochettino la home e tipo un google discovery queste cose qui insomma che permettono di avere un accesso alle notizie rapido e veloce intanto vado comunque a continuare a provare a installare l'italiano e ho installato ho iniziato l'installazione poi si è chiuso come avete visto è andato in crash il language pack lo installa tranquillamente intanto continuo a fare robe cose in modo che utilizzo chrome con il mio account sincronizzato qua è edge provo a scaricare ancora chrome forse l'installazione si era bloccata prima anche 7 zip che il mio file compressor universale che utilizzo sempre anche questo si installa in un secondo come vedete l'uac che è questa qui questa finestra che ti avvisa insomma che stai installando un programma esterno ho avviato intanto due volte l'installazione di chrome senza problemi sto facendo 10.000 cose insieme proprio apposta 7 zip l'ho installato intanto il language pack l'ho installato solo il primo gli altri per l'utilizzo della scrittura e del parlato non li installo l'ho riprovato già un paio di volte andato sempre in in errore come vedete non si può spostare così bisogna fare e aggiungere aprirla e poi pinnarla in termine tecnico pin aggiungere il pin al blocco dell'icona così ve lo trovate in basso nel consiglio centrale possibile anche personalizzare metterla scomparso oppure fissa e andare a personalizzare se metterla a sinistra come classico oppure centrato a me piace molto centrato quindi queste sono le opzioni della taskbar che sono diverse poi anche qui la modalità di colori che è uguale su windows 10 e quindi molto riprende da windows 10 quindi non è completamente rivoluzionario intanto ha installato anche l'italiano e vado a cambiare il linguaggio direttamente dalle impostazioni il resto non li installa quindi va sempre ad errore da questi errori se ci sono problemi di comunicazione col server ovviamente essendo totalmente un'anteprima vado a selezionare l'italiano e proviamo a fare un logout per per vedere se riesce a a recepire la nuova lingua come vedete è tutto in inglese adesso invece sebbene ci sia ancora diverse cose in inglese dovrebbe essere almeno in italiano nel menu e da qualche altra parte ecco qua come vedete tutte le app impostazioni adesso ho tradotto tipo qua non ha tradotto nulla my account privacy security come vedete sono tutte in inglese anche se ho cambiato la lingua qua c'è anche il fusionario completamente sballato che vado a sistemare come vedete la fluidità è proprio va bene va bene già sebbene questa sia veramente una dev una versione non in completo sviluppo non è male ho notato diversi crash anche qui ne vediamo un paio dei spegnimenti improvvisi applicazioni che non si installano però veramente veramente poco sono veramente contento di questo windows 11 mi piace tantissimo la grafica è veramente curata sebbene ancora sia lunghissimo io provo comunque a reinstallarlo ma non va proprio a buon fine quindi vado solamente a installare la prima parte del language pack che va a sostituire solo alcune alcune parti del sistema operativo il resto resta comunque totalmente in inglese ma se volete provarlo e farvi male con questo windows 11 provatelo ma non sul vostro pinci principale anche qui il pannello di controllo è molto simile se non identico quindi a windows 10 vedete non cambia tanto cambiano già le icone quelle ci sono sempre e comunque e anche qui le impostazioni di personalizzazione dello schermo sono identiche a quelle che vediamo su windows 10 e non cambia niente possono cambiare i temi i colori anzi andiamo a prendere e mettere anche il tema scuro e aggiungo le icone sullo schermo classico come vedete le icone sono quelle nuove e queste sono quelle colorate che troverete anche nella prossima versione di windows 10 come vedete già le cartelle tutto più omogeneo più curato nei vari menu animazioni molto veloce provo anche installare office una vecchia versione e andiamo a vedere anche come come si comporta è tutto fluido e funzionante al momento qualche bug crash ma ci può stare ragazzi cioè non è un prodotto finito anzi questa qua sarà proprio una versione trapelata completamente in anterria mi piace tantissimo queste icone colorate che danno finalmente un po' di vivacità ai colori tendenzialmente spenti di windows anche fino a windows 10 quindi erano un po' colori temi invece un po' di iconcine colorate e che fanno fanno sempre bene anche qui andiamo installare office la suite completa che anche qui ci metterà qualche minuto tendenzialmente su windows 10 ci mette 3-4 minuti qui andiamo a vedere quanto ci mette anche meno secondo me poi ci sono impostazioni di sicurezza classiche di windows 10 che abbiamo iniziato a conoscere come vedete ci sono alcune sezioni che sono protezione account sicurezza alcune sezioni che sono completamente stravolte e altre invece queste qui sono identiche a quelle che vediamo su windows 10 quindi ancora in fase di migrazione anche la sezione about del computer è uguale a quella che vediamo tra l'altro ho fatto un aggiornamento a windows 10 pro o una licenza windows 11 pro non ho dovuto inserire nessun seriale per farlo per attivarlo qui prosegue comunque l'installazione di office e vedete qui le icone che sono veramente belline sempre della della nuova versione tra l'altro vi indico anche sotto il link qui nel video come come installare e provare l'anteprima sul vostro pc windows 10 con il download del dell'icon pack estrapolato proprio da questa versione di windows di windows 11 vado a cambiare le app di default come vedete i menu sono proprio identici a quello che vediamo su windows 10 senza se e senza ma veramente le impostazioni sono le solite cambio della dello sfondo i colori si può andare a selezionare diversi sfondi e voglio andare a trovare anche il tema scuro che lo stavo cercando prima e devo andare nella sezione eccola qua colori come vedete è cambiato tutto quanto ma cambiare colori di menu e mi aspettavo cambiasse anche in automatico il lo sfondo con il tema scuro forse è da selezionare giusto per far vedere anche il contrasto eccolo lì devo andare a selezionare proprio il tema non il i colori del menu ed ecco qui che è anche bellissimo questo tema scuro mi piace tantissimo perché si integra ovunque non solo nello sfondo e nei menu come si vede ma anche in tutta anche nel file manager come vedete vado ad aprire le cartelle ed è tutto scuro tutto omogeneo con le cartelle che si vedono coloratissime ancora di più che danno risalto al tema scuro ormai il dark tem è un spopolato spopolato ovunque da ios ad android su qualsiasi dispositivo perché non su windows c'erano tanti temi carini su dev and art che ho installato che vi ho anche consigliato sul sito e windows ha pensato di metterlo il tema scuro ovunque qui nell'elenco delle app nel menu principale c'è sempre il tema scuro che è tutto omogeneo anche nella sezione le app dedicate come vedete lì c'era nel sono andato velocissimo però nel quadratino si poteva attivare come sistemare le le finestre se a destra a sinistra una funzione veramente che mi piace tantissimo in modo automatico andando a cliccare di fianco alla x si può impostare il la porzione di schermo da dedicare a quella singola app questa è la sezione in usi mi piace tanto che è molto simile a quella del del widget dove si può andare a personalizzare intanto vedete che ha quasi completato l'installazione di office e insomma la velocità è la stessa di windows 10 qualche bug o qualche crash ma sicuramente nelle versioni successive andremo andremo avanti nella configurazione totale del del sistema operativo che ovviamente è incompleto ma va benissimo per giusto per provarlo in anteprima e vedere che cosa ci permette di fare con windows 11 qui vado sul mio sito apriamo youtube giusto per andare a vedere ovviamente google è il primo che mi consiglia installazione intanto completata di office credo 2016 2019 non so cosa installato uno un'ultima che avevo e come vedete la velocità è sempre molto elevata adesso andiamo proprio ad avviare qualche app vediamo l'applicazione di word che va velocissimo si è aperto in un anno secondo ovviamente da tutto da configurare eccolo qua siamo di fronte all'app di word attiviamo anche excel semplice la configurazione iniziale accettiamo i contratti di licenza adesso chiuso per errore eccolo qua c'è l'attivazione da fare accettiamo questa volta è tutto molto veloce e fluido mi piace veramente tanto sebbene il pc non sia proprio recentissimo del 2017 sono molto contento è uguale a windows 10 la grafica completamente rivoluzionata e con le prossime versioni sicuramente ne vedremo delle belle tutto più colorato più omogeneo la grafica è veramente curata in ogni particolare vi lascio comunque link qui sotto per provare ad installarlo come fate nel video precedente e fateci sapere cosa ne pensate un saluto a tutti da francesco di autek is made con windows 11